La festa delle Gongorzola, che si può anche dire la sacra nazionale delle Gongorzola, è una manifestazione culturale che dal 1998 è stata istituita dalla locale Pollosso dell'economia della città. La festa è stata creata per celebrare uno dei formaggi più conosciuti del nostro paese. Questo formaggio si può mangiare con la polenta e con la pasta. La festa si celebra la terza settimana di settembre. La Gongorzola diventa il centro dell'esposizione attraverso le mostre e le dimostrazioni della lavorazione del proprio cibo e portando alla luce le proprie tradizioni legate alla cultura cittadina. In queste bancarelle ci passano migliaia di persone che sono turisti di tutto il mondo a vedere e a gustare la qualità di questo prodotto esposto. Addirittura il Gongorzola si può mettere anche nelle pizze. Il Gongorzola è uno dei formaggi italiani più notti al mondo. Questo formaggio si può gustarlo per tutto l'anno. Spero che la guida sia stata molto interessante e alla prossima! Spero che la guida sia stata molto interessante e alla prossima!